scrittore pittore e illustratore tommaso minardi fu allievo di giuseppe zauli l'artista trascorse i primi dieci anni della sua attività a roma dove lavorò per l'incisore giuseppe lunghi copiando tra l'altro il giudizio universale di michelangelo dalla cappella sistina inoltre studiò a fondo l'opera di leonardo e raffaello sul suggerimento dello scultore classicista antonio canova nel 1819 fu nominato direttore dell'accademia di perugia quindi dal 1819 al 1858 insegnò all'accademia di san luca a roma accanto alle molte opere eseguite su commissione di istituzioni ecclesiastiche e dominate da uno stile ispirato ai maestri rinascimentali minardi esegui anche numerosi ritratti dipinti di soggetto storico nelle geniali opere realizzate nella prima fase della sua carriera minardi congiunge un acuto realismo all'espressione di quel dolore universale che fu tratto peculiare del gusto romantico nell'autoritratto l'artista botto in un mantello siede su un materasso al centro di un vano di modeste condizioni ma ordinato sul margine superiore la linea inclinata del soffitto spiovente fa capire che si tratta di un vano ricavato in una soffitta la linea del soffitto costituisce inoltre il principale elemento diagonale di una composizione altrimenti dominata dalla serena giusta posizione di linee verticali e orizzontali sulla parete di fondo spicca uno scaffale pieno di libri mentre altri volumi sono accattastati sulla scrivania sinistra nella stanza spoglia illuminata dalla luce che penetra da due finestre dagli scuri aperti sono sparsi altri semplici oggetti un cranio umano e teschi animali sottolineano malinconicamente la consapevolezza che l'artista povero e sconosciuto nutre del proprio genio carl spitzweg avrebbe ripreso questo soggetto variandolo in seguito minardi si sarebbe avvicinato al movimento dei nazareni se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando